Sto registrando, eh? E lì che c'è resce? Spurgo e carburante. Ah, carburante. Guarda che sia dentro. Sto bolle d'acqua. Eh no, l'abbiamo partito. Punto. Drone. Torre Batini, proprio come la Formula 1. Proviamo a inquadrare il drone. Eccolo lì. Grazie. 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 Buongiorno. Grazie. E' il Mavic. se volete un altro legale amico il drone racing è qui ah si si è il 250 è anche mio il gomme lo sono costruito cosa hai messo su di centralina? CC3D si 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 il mio tot è il Copies One non so se è della Hobbit Pro cioè è praticamente la stessa roba di quei fatti su perchè è la prima volta che provo god è un drone della DJI bravo no il Bugs 2 quel con satellite il gas satellitare il gas tutto però ogni tanto che ha del mondo è lo stesso che ciappa sul cammino io non so adesso mi arriva la roba questa è la GoPro? si la GoPro la 5 la va sul drone anche questa no? si 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 noi abbiamo le termocamere quello lì conosco come drone il mio nome prima il Mavicchino? non sai che va da dio quello lì e costa 6-700 euro quasi 2.000 quasi 2.000 si perchè